L'operazione antidroga si chiama Stagnola ed è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Boiano che su richiesta del procuratore Nicola D'Angelo ha portato all'arresto di due trentenni con reati specifici e al coinvolgimento di altre 18 persone residenti nei comuni delle province di Campobasso e di Sernia. Si tratta in sostanza di due differenti attività investigative confluite in un unico procedimento è condotta nella fase iniziale dal nucleo investigativo Comando Provinciale di Campobasso dei Carabinieri e dalla compagnia di Boiano. Obiettivo evitare che Boiano possa diventare piazza di spaccio e quindi crocevia dei traffici tra le due province. In mattinata la conferenza stampa per i dettagli dell'intera operazione. La piazza di Boiano da qualche anno è diventata importante per lo spaccio al dettaglio di sostanze sopravacenti. L'operazione di questa notte pone fine comunque a quello che non deve essere considerato una piazza di spaccio ma sono singoli soggetti che hanno sostituito quelli più importanti che furono arrestati nell'ambito dell'operazione piazza pulita e questa notte abbiamo eseguito queste due ordinanze di costanza di catalare in carcere ben 28 perquisizioni tra indagati e assuntori e abbiamo nel corso delle operazioni, la compagnia dei carabinieri di Boiano, certificato oltre 2200 cessioni stupefacenti. Com'è nata e quando è nata l'operazione? Perché? L'operazione viene a ridosso dell'operazione più importante di Piazza Pulita, dove fu disarticolata completamente l'organizzazione del delinquere. Al posto di quei soggetti, dopo la stasi di qualche mese, si sono piazzati altri soggetti. Questi soggetti sono stati oggetto di indagine e dal settembre del 2020 abbiamo iniziato le attività tecniche, proseguite fino a qualche settimana fa, che hanno descritto una situazione obiettivamente preoccupante. L'indagine è denominata stagnola perché le modalità di spaccio degli indagati, in particolar modo dei due soggetti arrestati oggi, erano quelle di cedere lo stupefacente su dei piccoli riquadri di carta stagnola, agli assuntori che quotidianamente, in qualsiasi ora del giorno e della notte, si recavano previo contatto presso le loro abitazioni per acquistare lo stupefacente. Perché la carta stagnola? Perché nel caso in cui avvenissero dei controlli da parte delle forze dell'ordine, era facile eluderli, gettando appunto il riquadro con la sostanza stupefacente sopra contenuta. Nonché possibilità, e questo l'abbiamo documentato in diverse occasioni, di consumare la sostanza direttamente sul posto.